Allora Mario, una vittoria importante, forse avete avuto l'unico torto di non chiuderla prima. Sì, avete ragione, c'erano tante opportunità di chiudere la gara, tante chance di farla che non siamo riusciti a fare, però siamo stati pure bravi di non rischiare di pareggiare questa partita, siamo stati pure compatti dietro e l'abbiamo rischiato. Ma è un ruolino importante per lui in Napoli, 9 vittorie in Parigi, una sconfitta, mai in Napoli per la storia, non ha avuto tanti punti dopo il giugno, non ha giocato il giugno, lui si dà la consapevolezza nonostante la Roma per lottare veramente per lo sconfitto? Sicuramente sì, siamo là davanti, il campionato è ancora lungo, è importante stare attaccati, si deciderà verso la fine, c'è ancora molto tempo, dobbiamo fare continuità dei risultati. Marek, una parte della critica dice che tu non sei al top, è vero? Quali sono i motivi eventualmente? Non lo so, oggi è stata una buona prova, sono felice per quello. Ora lo step più importante, una settimana difficile, due appuntamenti decisivi, l'ultimo quello di domenica sera contro la Juve. Prima dobbiamo pensare a Marsilio che è altrettanto importante nella Champions e vogliamo fare bene anche in Europa.